Considerate se in questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il gremmo, come una rana d'inverno. Meditate, che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in case, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.